Si può dire che è stata una bella prova, però ovviamente c'è un'involuzione, si perde 3 a 0, anche se sembrava che eravamo molto più vicino dal punto di giubaldere, però è un 3 a 0 perso. Mi dispiace, però abbiamo fatto vedere anche delle belle cose, sono a questo punto stato più forte, anche se non sono ancora al massimo, questo si vedeva, anche per quello mi dispiaceva un po' che non abbiamo preso neanche un punto. Abbiamo fatto le cose bene, abbiamo giocato abbastanza bene, però alla fine conta se vinci o no. Grazie a tutti.